A nessuno di noi, neanche la sua compagna come sta dicendo adesso, però nessuno, solo l'Elisa che come al solito agonismo non so neanche come si scrive. Si è alzata in piedi. Grazie. Doppia! E' troppo aperta, è mancina, Cristo, Cristo, perché è inclinato il bagger. Lascialo, pari, lei carica la rincorsa e scarica. Adesso Nicole, su cui avete battuto, vieni di qua e vieni di là un'altra persona. Scegli di nomi là. No, scegli di lei. Io ho visto che abbiamo vinto dove sta Elisa, cioè scappa. Ma non c'è più le... le smiricite le tue. Si è bello se vuol dire una posonata forte nel colpo, così. Dai! Vedi, facendo così l'avreste fatto prima... No, non è vero. L'avreste fatto in una volata di questo. Ma me l'hai vista? Vabbè, però se hai la Niki che gli aggiusta tutte le alzate, poi te la mette giù. Mia. Ma no, no, non ballare, per favore, piega le gambe e porta la palla. Che anche questa qui vicina si impenna. Per i gradi di recessione già da ci potrebbe stare comodamente, lunedì eh. Per i gradi di recessione attacco, già da il gruppo di Dio Dio ci potrebbe stare comodamente. Un po' a suo agio. Non sbracciare Sì, è vero Il sede l'ha alzata bene che è un casino Bravo Ilaria Tu mi rendi fiero questo accanimento terapeutico E poi devo battere su di lei In effetti sono finissimo Devi bucarle la pazza E gonfia Voi da qua non mi ha detto che battere in salto A aumentare il 20% di efficienza Ero così Ti sei di Cristo Pallo, sei? Sì Puttana Mamma mia Bernabè che è anticipo potente 5 e 2, sì La soluzione migliore Meglio questa che l'ha alzata di prima Paola No Ilaria da te non me l'aspettavo Ci hai fatto rimanere male Non so se me la sento di continuare Volevo scavalcare Sì Io caro C'è da parlarne Guarda là Alza con la vanga quell'altra Sì, sì Sì, sì Palla Faccio io lo stacco qua Francesco Che bella questa palla Mamma mia Porca puttana Se la vuole Brava Francesca Eh? No, quella è tua Ciò prende lei cosa? E' brava la Colombia Brava Ilaria Tutto mercine su alzate Ci manca che deve andare di là Ci manca che deve andare di là 4-3 Stiamo Francesco Tu ci sei giocato di là? No No, no Eh, va bene Ma neanche io Allora Dai, nichi nichi Sì, esatto La schiena è giocata 5-3 Gli la butta un pallone Buona Bello Sì, sì, buona. Bello. Cinque. Sì, cinque. Brava Elisa, che cuore. Sì, potendo bene. Balla. No. Sì, certo. Vai, tra il tempo. Secco. Certo. Cambio, uno al posto di mare e il di là. Buongiorno. Ti riparte o... Questa merda. Bella. Brava Francesca, sfonda Bernabèi. Mi spiace, c'è intesa. Padriano, sei tu prima. No. No. Vai. Vai, ma resta. Trae. Ed è il mio. No. Dove parli? Andiamo. Vai. Dove parli non ci hanno fatto ancora una volta la pallantella, eh? Non bene. Dai, brava Nicole. Brava Nicole, se solo ci fosse anche Giada in campo. Oh, Gianni. No, ma vedi? Dai. Eh, sì. No, ma vedi. E sta sul cazzo di colla, capisco. Non è che non fai con me con me. Non fai con me. Non fai con me, perché te lo sta dimostrando. Ma non sto facendo giardegno. Non li vuole fare con te. L'ha detto un sacco di volte. Non è vero. Non vuole neanche giocare con te. Non è vero. Non è vero. Continui, esisti. Leura te lo sta palesando. Vediamo se è più chiaro. Buongiorno. Oh, è sopra, è tanto? Eh, sì. Quanto è? Quanto è? 25. Sì, vai. Ora ti riprendiamo, Ilaria. Non ti facciamo uscire viva. Vai, attacca in seconda a quello. Eh, sì, certo. Questo è in quale sport? Non farti l'appoggio, l'ho fatto da culo. Eh, perché non... Perché non... Perché non... Perché non... Perché non... Perché non... Seconda. Balla. Pur di non giocare con te, fa ace. Non l'ha mai fatto in vita sulla giada. Mai fatto in vita sulla giada. L'ha fatto adesso con te. Vicino dietro. Vicino dietro. Ah, giusto. Perché così attacchiamo piano al centro. Giusto. Chiaro. E sta cazzo di palla aperta, non è mai aperta. E sta cazzo di palla aperta, non è mai aperta. Questa! Giusto. Uno, l'altro, l'altro. No, no, no. Sette. Cambio. Ha vinto? Sì. Ultima di là. Prende in giro anche Nicotti. Out. A chi lo dice? Sotto due metri dentro del campo. Ma come lo senti? Sentì. Sentì. Sì, sì. Sai che sei al sole. Ci sei al sole. Ci parla. 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 Eri molto chirale. Molto brava. Palla. Parla. 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 Giada. Non ci giocare con i call. le ho messe apposta comunque Paola è lì dall'inizio le sue alzate triplo negative stanno aiutando la causa in maniera incredibile la peggiore alzatrice e la migliore attaccante ci credo di succedere, caro la rete la tiene la foggio della merda chiaro neanche ha bisogno di impegnarsi punto regalo ma sappiamo già che la foggia della merda Ilaria fa questo non ho fiato non ci dai mai neanche quando faccio un esercizio analitico perché quelli appoggi sono questi fuori ma ritocca a te quant'hai? 4 tra noi si 5 3 3 mi sono andata mi sono andata mi sono andata ma era proprio bella 4 pari quello sei donelli un'occasione sprecata che è un'occasione sprecata è un'occasione sprecata 5 pari 5 5 pari 5 pari 5 pari 5 pari 5 pari 5 pari Povere Cugira. Eccolo qua. Red in barca e si va a casa. Stop.